ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video arrivatemi lì proprio alle porte di natlan infatti pianti e tante lacrime era meglio se ci fosse stata la tua parte ma ce abbiamo adesso si prova a vincere il 50 e 50 se lo perdo continuo prendo la garantita e mi fermo se per caso invece la vinco veloce quindi nel giro di qualche multi magari faccio qualche multi sul banner armi che tanto che non pulo nessuna arma cioè da arlecchino quindi è passato un po di tempo e quattro stelle gli ho tutti c6 ho tutti i personaggi del gioco fa strano dirlo ma sì adesso che ho kirara a parte emily ho tutti i personaggi del gioco quindi non cerco nessuno in particolare dei quattro stelle c'ho qualcuna costellazione più bassa tra cui appunto kirara amica setos chevrose eccetera eccetera però insomma diciamo che l'importante sarebbe vincere sta tipa o comunque se l'ha aperto trovarla a piti un pochino basso staremo a vedere e dopo i miei colci sono anche tutti quelli ragazzi hanno pulato in live vi auguro buona visione insomma siamo a 30 quindi andiamo a 40 4 stelle dammi due quattro stelle per favore che ne ho bisogno perfetto da una yanfei inizio multi molto bene magari ce n'è anche un secondo ci sono due pool di risparmio vediamo sta maledetta non so riusciremmo a darle una build eccelsa come avrei voluto come quando vorrei cioè io vorrei vi dare tutti perfettamente è impossibile in questo gioco quindi spero le vada bene quello che le ho dato ok yanfei 50 andiamo bella grandi armi oggi comunque ragazzi tutti anzi no non lo dico perché è spoiler per chi vedrà il video quindi non lo dico non lo dico lo scoprirete guardando il video non lo dico non dico niente ok shaling 60 ansia panico che bella la nara che tuercano speriamo che a nata ci sia qualche altra creaturina carina visto che hanno fatto gli aranara e poi hanno fatto le melusine chissà se a natalan appunto ci sarà qualche altro mostrino carino come questi spero di sì mi sono ormai affezionata l'idea che ci sia qualche villaggio incantato da qualche parte con i mostrini bella rain slasher grande grande multi delle armi però 70 niente anche io al soft che vita di sacrifici ragazzi veramente vorrei essere federica in questo gioco non sono stanca di essere io voglio essere federica vediamo va bene un'altra pool allora siamo a 70 tondo quindi adesso faccio le quattro singole e poi la multi io mi sento che esce nelle quattro singole non so perché 71 no ok 72 no 73 ok ora mi sento male l'ultima 74 dobbiamo non uscire qui ti prego ok sì sì proprio una cessa allora la cosa positiva è che se lei è un po' cessetta magari i prossimi bandi sono meno cessetti ci siamo multi del 5 stelle ti prego Emily io sono una grandissima estimatrice del dendro quindi vieni mi incontro vieni mi incontro per favore dai multi del 5 stelle ok ok 75 76 in corner gin se per caso in corner gin si urla uguale 77 with it 78 la c6 la c6 la c6 la devo build no raga avevo detto che la buildavo con la c6 devo mettere l'alert hai ragione la mia c6 no di questa sono contenta in all'ora della mia mamma avevo detto che si la mamma sarà fiera di me oggi oggi non buildo cici col cazzo quando un po' di tempo libero tra i personaggi che veramente mi piacciono posso buildare cici esatto no di questa sono contenta di questa sono contenta è riuscita ad essere c6 lei prima di Mona che Mona è c5 da tipo un anno e mezzo lei è c6 da pochissimo cioè da c5 da pochissimo invece sono molto contenta in realtà va bene lo accettiamo tra tutte le cose dopo gin gin probabilmente questa era la seconda valore di più perché ormai tignari ce l'ho c3 e anche daya ce l'ho c3 quindi anche tu non mi iniziano a stare un po' sui coglioni no di dare c2 però uguale più o meno il discorso è quello comunque uno due tre quattro cinque sei ok ok va bene dai tra tutto tranne gin era la cosa migliore esatto c'era un periodo in cui io cici non ce l'avevo è stato l'ultimo 5 stelle del permanente che ho trovato cioè ho trovato per prima che cing poi mi è arrivato diluc no Mona poi diluc poi mi è arrivata gin e poi mi è arrivata cici per ultimo poi vabbè dopo hanno messo anche gli altri però insomma ok vabbè allora si riparte sei rifaccio altre quattro singole perché sì perché si fa le così sei quindi sette abbiamo ufficializzato france abbiamo ufficializzato con queste pool otto non ho avuto mai diluc in tutta fontaine non ho perso un 50 e 50 di fontaine con diluc è dalle pool di sumerud non mi ricordo nemmeno quando quindi nemmeno le ultimissime che io non ho trovato diluc per tutta fontaine ecco qua razor vabbè questi sono pool e mi fanno comodo adesso comunque devo rifare un po' di pity sperando esca veloce ma io secondo me adesso faccio un altro hard però perdonerò il gioco che mi farà vincere il 50 e 50 su stenterello quando arriva il prossimo il chiniche ok allora 10 20 ok qua ragazzi più 4 stelle vediamo più si fa festa questa molto buona speriamo ci sia un altro personaggio sì 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 sono pool poi le converto gli star glitter sopra le 200 li converto tutti quindi come avete visto ne avevo tipo 218 quelle 18 poi li prendo e le utilizzo ok adesso c'è solo il 4 stelle 30 sì sì evviva si risparmia evviva allora 21 22 23 buono buono 24 25 26 27 27 in fondo 28 29 yes 29 dai è andata bene ci sei di Cici Emily alzo le mani e dico è andata bene no se non esce è da piangere quindi spero spero vivamente esca 84 84 allagato c'è per forza bene ok ok 75 75 76 77 78 sono troppo forte sono troppo forte iiii non ce li farei un pity c1 ok c1 non so a che piti andiamo 15 oh cazzo ah 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 allora te lo richiedo seriamente ora cosa c'è qui gli elanci uno o un altro personaggio cosa vuoi ora serio eh serio so probabilmente gli elanci uno quando mai ripullerò ce la farò un altro pity sugli elan io lo so comunque ci siamo fermati a pt6 quindi questo è 7 questa singola che stiamo guardando 8 questa è 8 9 10 11 12 grazie 13 la tensione il suspense 14 in fondo 15 va bene va bene va bene va bene va bene sei proprio un migliore amico di Inverda lo sai vero vai ok 5 stelle c'è un winzit un winzit a caso vabbè 75 76 comunque la 76 non è più la pull il re-tap di niente non esce niente a 76 77 78 si che bella la splash art bellissima non l'avevo ancora vista questa splash art è bellissima l'abbiamo vinto oh meno male bella è proprio bella 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 è bellissima vero Arlux voi l'avevate vista io ancora no perché non ho visto le pull di nessuno quindi non ho avuto modo di vederla 20 grazie andiamo a PT30 aiuto 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 vabbè facciamo così comunque vada violet io direi che possiamo dire che è un successo a prescindere cioè questo è PT21 cioè direi che comunque siamo soddisfatte perché non credevamo nemmeno vabbè vediamo come va questo è 21 22 23 24 il simulacra a PT24 io posso essere onesta ci metterei la firma 66 5 stelle qui o dovremmo fare le singole 5 stelle qui unexpected sono sincera non credevo non credevo non credevo credevo dovessimo fare qualche singola e invece no e invece no ok 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 perfetto vediamo vediamo proprio lui proprio Alex proprio Alex expected proprio lui allora quindi questo era 57 58 59 sarà a fine molti 60 61 62 63 un altro simulacra Violet la benedetta dal cielo dei simulacra io penso che lo scenario migliore ragazzi che si potesse insomma aspettare perché è letteralmente uno degli archi più forti del gioco immaginatevi se avevamo trovato uno Skyward Aptas possiamo andare 5 stelle allora Yelan cioè il punto è è sola vediamo questa era 76 77 78 allora molto bene 50 e 50 da vincere vadi che lagone sì Enzio allora allora il lagone mi è piaciuto ma non so se perché ha laggato anche in altre multi quindi non so non so vabbè 75 76 77 78 79 yes yes sì Alice abbiamo vinto buono che questa cosa non è più così 67 ok meno male Simulacra Day bellissimo cioè io ve lo auguro a tutti Simulacra Day Alice oggi che poi ragazzi cioè stiamo perdendo tutto con il Simulacra quindi è bellissimo è bellissimo però allo stesso tempo tipo child esatto Alice ragazzi è main child lei ha detto se mi trovi il Simulacra io lo do a quel cesso a pedali di mio marito dov'è eccolo vamos 5 stelle ce l'abbiamo ok 75 76 77 78 niente oggi qualcuno doveva perderlo qualcuno sta su francesco cacolo babbo natale vediamo sì top ce l'abbiamo fatta è il milagro di babbo aspettate dov'è qua ci serve proprio no ho lo stream deck bugato devo andare sui suoni volevo mettere non me lo aspettavo ma non me lo fa mettere perché aspettate io adesso sono molto arrabbiata nel mio stream deck cerchiamola in fondo fatto faticoso impegnativo ma ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo dai Francia sono contenta sono contentissima che l'abbiamo fatta